L'arciprede Agostino Giacalone, lo vedo sorridente, seconda edizione, terza rappresentazione, un successo questo precisamente qui a Casalvecchio. Ma possiamo dire che siamo giunti ormai alla conclusione del nostro Natale, quest'anno a Casalvecchio, un Natale, posso dire, abbastanza impegnativo, abbastanza importante, abbastanza significativo, perché è stato un Natale improntato tutto sulla carità, sulla solidarietà e soprattutto sulla collaborazione. Questa sinergia che c'è stata non solo tra la parrocchia, l'amministrazione comunale e l'associazione Prologo, ma anche abbiamo cercato di creare dei punti di riferimento, dei punti di incontro anche con le frazioni vicine, a partire dalla parrocchia di Misitano e di Rimiti, parrocchie che sono state date alla mia cura pastorale. Possiamo dire un Natale impegnativo, un Natale significativo. Forse siamo giunti alla conclusione stanchi, però sono contenti di aver vissuto un bel Natale, soprattutto di aver visto protagonisti i nostri cittadini, la mia comunità protagonista. È vero che tante volte l'input, le sollecitazioni devono partire proprio dalle istituzioni, in questo caso mi riferisco al mio ruolo in questa comunità, ma è anche vero che i cittadini, i nostri compagni di viaggio che sono d'altronde i nostri collaboratori più vicini, a partire dalla parrocchia, hanno dato un valido contributo. Come dicevo, un Natale impegnativo. Forse siamo stanchi ma contenti di averlo vissuto così bene intorno a tutte quelle manifestazioni che ci hanno viste impegnate, manifestazioni religiosi, momenti religiosi, ma anche momenti ricreativi, momenti culturali, momenti di formazione, come ad esempio momenti di confronte e di dialogo, come questo del presepe vivente. Il suo discorso post-amministrativo è stato recepito, una comunità unita e anche in crescita ovviamente. Sì, Casalvecco è da poco che io sono in questa comunità, proprio in questo mese, tra qualche settimana faccio proprio tre anni che sono alla guida di queste mie tre comunità, molto belle, amate, comunità che mi hanno dato sempre quella forza ad andare avanti e a realizzare sempre di più il mio essere prete, il mio essere sacerdote. E da quando sono arrivato qui me ne sono accorto da subito che Casalvecchio ha bisogno di essere valorizzata, perché Casalvecchio ha una bellezza non solo spirituale, religiosa, ma ha una sua bellezza artistica, culturale e ha bisogno di essere proprio valorizzata, perché anche con l'amministrazione attuale uno degli obiettivi fondamentali è stato proprio quello del bene dei nostri cittadini, farli mettere in gioco. Proprio loro devono collaborare, perché tutti siamo chiamati ad ogni responsabilità. È vero che tante volte le responsabilità cadono sulle istituzioni, ed è giusto che sia così, ma tutti siamo chiamati a collaborare, a essere responsabili per il bene del nostro Paese. Definisco sempre una comunità, un Paese in genere, come un bel quadro, dove ognuno dà la possibilità o l'aiuto, la collaborazione, perché fuori possa venire una bella immagine. E certamente lavorando così in sinergia con tutte le realtà presenti sul nostro territorio, penso che possiamo arrivare a raggiungere quantomeno questo obiettivo, perché Casalvecchio veramente ha bisogno di essere valorizzata. Padre Agostino, finisce il Natale e noi sappiamo già che lei sta pensando anche alla Pasqua. Sì, è vero che in questa comunità non ci si ferma mai. Ecco, un Natale bello, ecco quello del presepimento dal punto di vista anche della partecipazione, e già mi sto prefissando ecco delle iniziative per quanto riguarda la Pasqua, non solo valorizzare tutta la Settimana Santa, che sappiamo già bene che a Casalvecchio è abbastanza intensa, valorizzarla, dare anche un vero e proprio significato, ma soprattutto ecco una delle esperienze, speriamo di farcela, ecco con l'aiuto di tutte, l'aiuto di Dio, ecco il discorso dell'esperienza della passione vivente. Ecco un'altra meta che questa comunità ecco deve raggiungere, perché stando insieme certamente si cresce a livello umano e si cresce soprattutto a livello cristiano e religioso. Tanto lavoro per Padre Agostino, ma anche per l'intera comunità, vista che a rappresentare appunto il presepimento c'è un intero paese. Sì, non dico un intero paese, tutto il paese, ecco si è messo in gioco. Certamente ecco le fatiche di un parroco non è tanto ecco l'organizzazione, ma è tanto ecco far riuscire bene, ecco le cose. Ecco come dicevo prima, sicuramente anche per me sarà stato un Natale impegnativo, stancante, ma contento veramente. Non c'è più gioia per un parroco vedere la propria comunità che gioisce. Questo è penso una delle mete, uno degli obiettivi fondamentali che un parroco deve raggiungere, vedere contenta la propria comunità. E oggi, ecco posso dire che la mia comunità è contenta. Questa è la mia gente che devo servire e certamente vedendoli proprio in gioco, vedendoli proprio che collaborano, che lavorano per la riuscita ecco anche di questa manifestazione, certamente questo mi dà tanta gioia, tanto coraggio ad andare avanti.